Buona giornata a tutti e ben ritrovati con trebimeteo.com. Andiamo a vedere la situazione per lunedì 13 ottobre quando un nuovo consistente peggioramento interesserà le regioni di nord ovest e la Toscana. Andrà meglio sempre al centro-sud invece grazie all'alta pressione con tempo in prevalenza soleggiato e clima diurno molto mite. Vediamo proprio le temperature, le minime rimarranno stazionarie da nord a sud, valori mediamente compresi tra 14 e 19 gradi. Passiamo poi ai valori massimi perché stazionarie saranno le temperature in Valpadana con massime non oltre 20-22 gradi, punte di 25-26 gradi solamente sulla Romagna. Al centro-sud invece valori decisamente miti, quasi estivi invece sulle due isole maggiori con punte di 27-30 gradi possibili sulle zone più interne. Ma passiamo al dettaglio previsionale iniziando dalle regioni settentrionali. Al mattino il maltempo che insisterà già al nord ovest con rovesce temporali in particolar modo tra il Piemonte, l'Alta Lombardia e la Liguria localmente anche di forte intensità. Discreto invece sul Triveneto però tra il tardo pomeriggio e la serata arriveranno anche qui veloci rovesci e temporali soprattutto su alte pianure e settori alpini. Passiamo poi al centro Italia perché la giornata sarà molto instabile sulla Toscana con occasione per qualche rovescio temporale. Buoni invece altrove quindi su Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo con ampi spazi soleggiati e clima piuttosto mite durante le ore centrali del giorno. E infine un'occhiata alle due isole maggiori, nulla da segnalare perché l'alta pressione manterrà condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato solamente qualche nube in più di passaggio sulla Sardegna ma senza rischio di fenomeni. Ma per ulteriori informazioni vi rimando come sempre al nostro sito trebimeteo.com o scaricata l'app gratuita dagli store dedicati.